Il Governo, insistendo nella pratica di non ascoltare le parti sociali, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per l'attuazione della riforma della non autosufficienza e delle altre politiche per le persone anziane. Sono state accolte le richieste del Parlamento e delle regioni, scrive l'Auser nazionale, ma nessun cenno alle numerose osservazioni fatte dalle associazioni ed organizzazioni laiche e cattoliche. «Attendiamo di leggere il testo del decreto», afferma sempre l'Auser, «ma anticipiamo che se il decreto non è sostenuto da adeguate risorse, in grado di dare risposte concrete a più di 3,8 milioni di anziani, non autosufficienti e ne fatti una scatola vuota», scrive sempre l'Auser, «per cui non può essere delusa l'aspettativa per una riforma che garantisca una maggiore e migliore qualità dei servizi per una vecchiaia dignitosa. Una legge che riguarda non solo i 3,8 milioni di anziani interessati e in totale sono 6 milioni di cittadini italiani», dice il segretario regionale della Campania del sindacato dei pensionati della CGL, Franco Tavella. «E' una legge di civiltà, ma una legge di civiltà come questo significa dare una mano agli non autosufficienti, alle loro famiglie e metterli in condizioni di avere un'assistenza che gli consenta una vita dignitosa. Tutto questo non è possibile se tutto si trasforma in un foglio di carta senza risorse e senza aiuti da parte dello Stato. Quindi una pessima decisione, spesso presa contro anche il parere delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo cattolico e laico, è un documento di facciata che potrebbe servire ad una propaganda politica, ma non servirà ai non autosufficienti ed in particolare gli anziani.